Sì, è stata acquistata la risonanza magnetica Total Body ma non ci sono le stanze dove ospitarla. Sentiamo il servizio. Un'apparecchiatura sottolinea la ASL che per la città di Sulmone e per l'intero territorio perinio sangrino rappresenta il coronamento delle tecnologie sanitarie di recenti acquisite per il nuovo reparto di radiologia, ora ubicato nella struttura antisismica in cui tra l'altro da pochissimo tempo è stato completato il trasferimento delle degenze e delle relative attività sanitarie prima ubicata nella vecchia struttura ospedaliera. Un grande risultato quello vantato dall'azienda che è stato raggiunto grazie alla giunta regionale d'Alfonso che autorizzò la risonanza magnetica su impulso dell'ex assessore regionale e le aree interne Andrea Gerosolimo. La notizia però ha lasciato un po' tutti a bocca aperta, in particolare utenti e addetti ai lavori, perché la stanza del nuovo nosocomio adibita a ospitare la risonanza magnetica risulta ancora grezza. Necessita insomma di lavori, tant'è che il macchinario, nell'ospedale innovativo e super sicuro, non è stato ancora montato. Una situazione che persiste dall'inaugurazione del nuovo plesso, già denunciata dal Tribunale per i diritti del malato, che non sembra risolta. La lista degli investimenti per la sanità per linea sangrina resta comunque degna di nota. La risonanza magnetica articolare per Castel di Sangro, la Total Body per Sulmona, una nuova apparecchiatura radiologica per la sala elettrofisiologica dell'ospedale di Sulmona e varie attrezzature endoscopiche per Sulmona. L'auspicio è quello di vedere presto in funzione la risonanza magnetica all'ospedale dell'Annunziata, per mettere la ciliegina sulla torta su un ospedale che fa gola all'intera regione e non solo. Discorso a parte quello del personale, con i concorsi ancora fermi e con carenze di organico da risolvere. Un violento incidente automobilistico nei pressi di Santa Brigida, ma per fortuna i conducenti non hanno riportato gravi ferite. Vediamo. E di un ferito non grave il bilancio di Urocambolesco, incidente stradale che si è verificato intorno alle 21 di ieri sera in località Santa Brigida, tra Sulmona e Pratola Peligna. A finire in ospedale è stato un uomo che non correrebbe pericolo di vita. A scontrarsi sono state una punto, guidata da un pratolano e una Peugeot 308, condotta da un sulmonese che ha avuto la peggio dopo il violentissimo scontro, finendo in ospedale. Entrambe le vetture sono rimaste danneggiate in modo serio, sono quasi completamente distrutte. L'incidente poteva portare a conseguenze ben più gravi per gli occupanti delle due auto. Il conducente della punto, uscito e leso, è stato sottoposto all'esame dell'alcol test. In ospedale si procederà con gli altri accertamenti. La dinamica è ancora da ricostruire e saranno i carabinieri ad accertare eventuali responsabilità. Sul posto si è reso necessario l'intervento di vigili del fuoco, ambulanza 118, croceverte di Pratola Peligna. In strada sono scesi anche i residenti della zona preoccupati per la sorte dei due conducenti. Fortunatamente solo tanta paura, anche se gli accertamenti andranno avanti. Corso Ovidio, in pieno centro storico, un anziano viene investito e finisce in ospedale. Un anziano di Sulmona è finito in ospedale questa mattina dopo un incidente, fortunatamente non grave, che si è verificato intorno alle 10.30 nel centralissimo Corso Ovidio di Sulmona, a pochi metri dall'intersezione con via Roma e via Mazzara. L'uomo stava camminando lungo il corso quando sul lato destro è stato investito da una Fiat Panda guidata da un altro anziano del posto. Un impatto lieve che fortunatamente non ha portato a gravi conseguenze per entrambi. Sul posto è arrivata comunque un'ambulanza del 118 per trasportare in ospedale l'anziano pedone rimasto ferito a un piede. L'uomo è stato quindi sottoposto agli accertamenti del caso, mentre per effettuare rilevi di rito e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente è intervenuta una volante della Polizia. Un fuori programma di lieve entità cheppure non è passato inosservato nella giornata di mercato, in un momento dove la regolamentazione del traffico lungo il corso resta al centro del dibattito pubblico. Un uomo minaccia e maltratta la moglie vietandole di usare gli elettrodomestici, ma il giudice lo proscioglie. Sentiamo. Era finito sotto inchiesta per aver minacciato in modo grave aver maltrattato la moglie, ma il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sulmona, Giuseppe Ferruccio, lo avrò sciolto perché il fatto non sussiste. Per SG 50enne di Vratola Peligna è arrivata ieri la sentenza di non luogo a procedere al termine dell'udienza preliminare davanti al GUP. Per l'uomo si chiude così un incubo giudiziario, anche se la vicenda è destinata ancora a far parlare di sé perché il 50enne, per i tramite del suo avvocato Alessandro Margiotta, ha già annunciato di voler procedere per calugna nei confronti dell'ormai ex consorte, vista la formula di proscioglimento. Ma andiamo con ordine. I fatti si riferiscono a due distinti episodi, il primo contestato il 10 luglio 2015, l'altro da inizio agosto a fine novembre 2018. L'uomo era accusato infatti di aver minacciato in modo grave, ripenutamente la moglie, intenzionata a separarsi regalmente, dicendole ti mando a vivere sotto i ponti, ti rovino, ti ammazzo, passandosi il dito sotto il mento. Comeppure, stando al capo di imputazione, il 50enne era finito sotto inchiesta con l'accusa di aver impedito alla moglie l'uso di elettrodomestici per limitare i consumi, per aver danneggiato l'auto con un calcio, sputandoli addosso, apostrofandola con parole poco signorili davanti a figli e terze persone, minacciandola anche di morte. Un quadro accusatorio grave e solido, cheppure è decaduto in sede di udienza preliminare. Il GUP ha infatti ascoltato tre familiari più stretti a conoscenza della vicenda che non hanno confermato la versione dei fatti resa dalla donna e starà quindi pronunciata la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Una formula di proscioglimento che sicuramente porteremmo assistito a procedere per calunnia nei confronti delle ex moglie, viste le gravi accuse che li sono state addebitate, tutte infondate, conclude l'Avvocato Margiotta. È sempre più vicino l'avvio dei lavori a compartimenti per la scuola Serafini e sono state chieste le integrazioni. Sentiamo. Dopo anni di battaglie e ricorsi, sembra sbrogliata la matassa dei lavori alla scuola media Serafini di Sulmona che potrebbero partire il mese prossimo fermo restando l'invio delle integrazioni richieste al comune di Sulmona dal genio civile sul progetto definitivo esecutivo. Dopo l'avvertura del cantiere La Masciangio e Lele Capograssi la scuola Serafini potrebbe inserirsi nel giro, certo senza gridare vittoria dal momento che le lesioni post-sisma per quasi tutti gli edifici scolastici risalgono al terremoto del 2009. L'ipotesi avanzata dal vice sindaco assessore comunale ai lavori pubblici Luigi Biaggi è quella di eseguire lavori compartimentando la scuola. Io spero proprio di sì perché sono arrivate in istruttoria in istruttoria la pratica al genio civile, hanno chiesto delle integrazioni a giorni dovremmo avere pronte anche queste integrazioni da parte dell'impresa. Io mi auguro che si possa lavorare compartimentando la scuola questo però dobbiamo ancora concordarlo sia con la preside Domenica Pagano e con gli altri endi naturalmente con gli uffici, con l'ufficio tecnico e con l'impresa che deve realizzare le opere. Il genio civile è richiesto delle integrazioni su progetto che sono in corso di stesura. Tutto lascia pensare salvo intoppi che entro il 29 febbraio il cantiere potrebbe aprirsi. L'idea del comune è quella di eseguire gli interventi senza divenire un trasloco per gli studenti, in modo tale da utilizzare il plesso di via Volta anche per i più piccoli della Lola di Stefano, quando partiranno i lavori. Quella della scuola Serafini è una vicenda annosa. Il progetto risale al 2015, dopo la sentenza del Tarrabruzzo che ha bocciato il ricorso dell'impresa arrivata a seconda, la trafile è ripartita il 25 ottobre 2018. L'opera è finanziata con fondi del commissario delegato per la ricostruzione della regione Abruzzo a valire sui fondi della delibera Cipe numero 47 del 2009, previsti sul bilancio 2018-2020. La somma si aggira intorno a 2 milioni e 900 mila euro. Scuole nuove o lavori in quelle già esistenti. Il dilemma dei dilemmi nel nostro archivio. Si stanno sbloccando una serie di cantieri nella città di Sulmona, finalmente dopo dieci lunghissimi anni di attesa. Non ne sarà abbandonato il progetto di realizzare un nuovo plesso scolastico con la gara che è in corso di definizione e perfezionamento. Ma è più efficace seguire i lavori nelle scuole esistenti o realizzarne una nuova, moderna, sicura e antisismica? Il dilemma dei dilemmi che possiamo ripescare nel nostro archivio. Se poi noi invece vogliamo far distruggere queste strutture esistenti per far sì che si ridiano appalti, si creano consorsi, si creano appalti dove tutti quanti possono un po' mangiare sia economicamente che a livello di voti, che è un valore importante anche quello, credo che mi sento di dire che sarebbe meglio tenere conto, manutentare bene e bene le strutture che esistano. Fare il lavoro su quelle esistenti mi ha fatto bene però, con molta adeguatezza e con molto criterio, perché altrimenti è venuta che buttiamo giù le scuole e ricominciare a rifarle da capo e poi dopo metterle in sicurezza maggiormente, perché la scuola è una seconda casa per i ragazzi. Beh, per me è meglio fare i lavori su quelli già esistenti, perché si fa prima anche raggiustarli. Io una cosa solo voglio dire, come mai che il vice classico video non si riesce a raggiustare. Bisogna fare entrambi i lavori, perché le scuole di Gigi Stano sono scuole importanti e bisogna metterle a posto. Costruire quelle nuove è anche bello, è anche divertente. No, meglio che comunque sia, a questo punto rifare una scuola. Visto che ragione le giovani, la sta a Pratola, a questo punto è meglio che la buttano giù e la rifanno da capo. È l'unica soluzione. Beh, logisticamente parlando, l'adeguamento sismico è molto più complesso, molto più difficile, ma è un ottimo compromesso con l'identità di un luogo che va sempre preservata. Costruire Ex9 è una soluzione sicura, però allo stesso tempo sicuramente una modifica importante anche alla cultura del luogo. Il Campus Biomedico di Roma, tu per tu, con 700 studenti. Sentiamo. Circa 700 studenti provenienti dalle scuole superiori di Sulmona, Pratola, Peligna, Castel di Sangro, Popoli e Vezzano saranno i protagonisti della giornata di orientamento universitario UCBM in Contra. Un evento voluto dall'Università Campus Biomedico di Roma che si darà lunedì 13 gennaio a partire dalle 9 presso il Teatro Maria Caniglia di Sulmona. Un'occasione per aiutare gli studenti del territorio pelinio a scegliere il corso universitario che li accompagnerà nei prossimi anni, coinvolgendo direttamente l'Istituto di Recomprensorio, dai licei classici, scientifici e linguistici. Con le sue tre facoltà di medicina e chirurgia, ingegneria, scienza e tecnologie per l'uomo e l'ambiente, organizzate in 11 corsi di laurea, l'Università Campus Biomedico da sempre si caratterizza per la sua capacità di unire la ricerca scientifica alle tecnologie più avanzate nel segno della scienza per l'uomo, sviluppando soluzioni per la cura e il benessere della persona. La giornata al Teatro Caniglia sarà quindi l'occasione per raccontare le opportunità messe a disposizione dal nuovo piano di borse di studio, che a partire dal nuovo anno accademico darà ancora più opportunità a tanti studenti meritevoli di laurearsi in questa prestigiosa struttura. L'evento vedrà la presenza di importanti figure istituzionali a partire da quelle del Vescovo di Sulmona Michele Fusco, Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, insieme alla partecipazione dei numerosi sindaci della zona. La giornata, dopo i saluti dell'autorità, proseguirà con l'introduzione del Direttore Generale dell'Ateneo Andrea Rossi per quanto concerne l'offerta formativa del Presidente del Consiglio Studentesco Augusto Ferrini, figlio della Presidente della BCC di Bratola Peligna, Maria Assunta Rossi. Gli studenti scopriranno la vita universitaria attraverso le testimonianze di alcuni studenti universitari abruzzesi che qui già studiano e ascolteranno una breve lezione multidisciplinare che spazierà da temi dell'ingegneria alla medicina, dalle scienze dell'alimentazione all'infermieristica. Al termine della giornata sarà possibile affrontare la simulazione di una prova di ammissione con domande di logica, chimica, biologia, matematica. E non solo. E nove anni fa l'addio al fondatore di questa emittente televisiva, Gino Presutti. Noi lo ricordiamo così. Ed apriamo la pagina sportiva nella terza giornata di ritorno del campionato di eccellenza a scontro salvezza dei Nerostellati in casa della Virtus Cupello. I Pratolani sono fuori dalla zona play-out ma le distanze tra le due squadre sono solo di tre punti. I Nerostellati in serie positiva da cinque turni con tre vittorie e due pareggi proveranno a portare a casa un risultato positivo per staccare ulteriormente una diretta concorrente per la salvezza. Ed in promozione per l'Ovidiana Sulmona domani big match decisivo a Miglianico. Vediamo. Attesa per il big match Miglianico-Ovidiana Sulmona in programma domani per la terza di ritorno del girone B di promozione. I Biancorossi, seconda forza del campionato affronteranno in trasferta la quarta in classifica. In virtù della posizione di entrambe separate da sette punti la sfida sarà fondamentale e decisiva. Si tratta di due nobili decadute che vogliono recitare un ruolo importante nel 2020. Sia Miglianichessi che Peligni hanno proceduto al cambio tecnico con i nuovi allenatori Naccarella e Caradilli presi ufficialmente lo scorso 14 novembre. Sette gare fin qui disputate sia da Giuseppe Naccarella con cinque vittorie e due sconfitte che da Pietro Caradilli con sei successi ed un pareggio. Le vittorie del Miglianico con il nuovo trainer sono state tutte ottenute con una sola rete di vantaggio mentre quelle dell'Ovidiana Sulmona hanno avuto una media di 3-4 gol a partita. La squadra di Caradilli è diventata un rullo compressore con il bomber Orlando Aquino terzo nella classifica marcatori con 14 centri stagionali. Il Miglianico proverà a contrastare la forza di un'Ovidiana Sulmona che non fa sconti a nessuno. Nei padroni di casa salteranno il confronto per squalifica i centrocampisti Nicolas Di Donato e Stefano Giandonato. Nel match di andata giocato a Castellisangro i sulmonissi si impossero con un gol di Aquino sul finire del primo tempo. Vincere la sfida di ritorno rappresenterebbe molto per l'Ovidiana Sulmona per staccare ulteriormente una diretta concorrente ai play-off. La gara è stata affidata alla direzione di Matteo Mario Pizzi di Teramo coadiuvato da Federico Cocco di Lanciano e Davide Donatelli di Pescara. Scontro salvezza per il Raiano che allo stadio Alfredo Cipriani ospiterà la Cassolana. La squadra di Cassanova dopo la pesante sconfitta in trasferta contro la fata Rangelini Abruzzo è chiamata a fare per forza risultato tra le muramiche. La situazione si sta facendo difficile ma con una vittoria nel match di domani i raianesi si porterebbero a meno due proprio dalla formazione di Casoli che attualmente occupa la sest'ultima posizione. All'andata il Raiano vinse per 3-2 ed ora gli sportivi rosso-blu si augurano che questo risultato possa essere di buon auspicio anche per la sfida di ritorno. Al Cipriani arbitrerà Federico Di Caro Ricchieti assistenti Valerio Maiolini di Avezzano e Fabrizio Aspite di Chieti. Alla ripresa del campionato di C1 di calcio a 5 il Sulmona Futsal non va oltre il pari nell'anticipo di ieri sera a Chieti terminato 3-3. Vediamo. Pareggio in trasferta alla ripresa del campionato di serie C1 per il Sulmona Futsal che nell'anticipo serale non va oltre il 3-3 contro le Schietti. C'è un po' di amarezza per aver conquistato soltanto un punto da parte di Biancorossi che però hanno dovuto fare a meno di elementi cardine come gli squalificati Junior e Sanchez insieme a Gian Sante che nei giorni scorsi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Primi tentativi dei Sulmonessi con Palladino e Porcu mentre sull'altro fronte Toto trova l'opposizione di Agostinelli. La partita si sblocca al settimo con il gol del Sulmona Palladino servito da Ginnetti mette nelle condizioni Porcu di battere a rete per un vantaggio che lasciava per sperare. La squadra di Fonte si spinge ancora in avanti controllo e tiro di Veneziale che non riesce a superare Trusniak con la palla che sfortunatamente colpisce il palo. Pericolo poi nella porta di Agostinelli Di Paolo apre per festa che manda fuori. I padroni di cassa si vedono con Mastronardi sugli sviluppi di una punizione. Al diciottesimo Leschieti pareggia. Basso recupera ed attraversa tutto il campo fornendo a Mastro Vincenzo la palla per il gol che ristabilisce la parità. Il Sulmona fa il possibile per ottenere il nuovo vantaggio Agostinelli propone profondità liberatore che impensierisce Trusniak. Il gol voluto e cercato arriva al ventiquattresimo ancora con Porcu che servito da Ginnetti realizza la doppietta che permetterà di chiudere il primo tempo sul 2-1. In apertura di ripresa il Sulmona sciupa con Palladino la possibilità di incrementare il vantaggio. Leschieti prima si rende pericolosa con Di Federico e poi riesce nuovamente a pareggiare. Dopo un corner basso serve Toto che tira di prima intenzione portando il punteggio sul 2-2. Al diciannovesimo Leschieti ripalta la situazione portandosi in vantaggio. Dopo una rimessa laterale di Mastro e Vincenzo c'è il diagonale di De Leonardis corretto e rete da Di Paolo per il gol del 3-2. Le emozioni proseguono con il pareggio del Sulmona che in seguito al sesto fallo delle Schieti trova il gol su tiro libero con Ginnetti per il 3-3 che sarà il risultato definitivo. Sulmona poi sfortunato con il tiro di Notanadrea che scheggia l'incrocio e termina fuori. I Sulmonesi beneficiano di un altro tiro libero che questa volta non va a buon fine con la conclusione di Ginnetti che colpisce la parte bassa del palo. Terzo tiro libero per il Sulmona ma la porta sembra ormai stregata. Batte ancora Ginnetti con la palla che termina sopra la traversa. Fino all'ultimo secondo c'è la massima attenzione affinché non peggiori la situazione al Sulmona Futsal che è costretto ad accontentarsi del punto che dà ossigeno alle Schieti per la lotta salvezza. I film in programmazione a Igioland Corfinio Tolo Tolo alle 18.10 alle 20.10 sulle ali dell'avventura alle 18.10 alle 21.10 a Mammet alle 18.20 alle 21.10 mentre al Cinema Pacifico prosegue Piccole Donne alle 18.20 e alle 21.10 vi auguro un serenissimo weekend ci vediamo lunedì arrivederci a tutti sulla nostra regione condizioni generali di cielo sereno poco nuvoloso dal pomeriggio e previsto un graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dal settore costiero sulle zone collinari e successivamente sulle zone montuose con possibili occasionali deboli precipitazioni a carattere sparso più probabili sulle zone collinarie e montuose temperature temperature generalmente stazionarie con tendenza a lieve graduale aumento specie nei valori minimi venti deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera mare quasi calmo poco mosso con motondusso in aumento остale lungo la fascia costiera risi Aggra risi 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 Grazie a tutti.